Abbiamo il piacere e l'onore di essere stati segnalati per ospitare questa iniziativa promossa dalla Regione Marche, proprio anche per il calibro dei temi che sono oggetto della presentazione dei bandi comunitari, che riguardano temi importantissimi, fondamentali, come l'innovazione con le start-up innovative, l'internazionalizzazione, le filiere produttive, che sono tutti e tre temi che la nostra azienda, IFSPA, ha convintamente nel passato e ancora oggi e nel futuro, ha creduto e crederà in maniera convinta come volani e propulsori della crescita. Continuiamo il giro di presentazione di un pacchetto di tre bandi che la Regione Marche, l'assessorato allo sviluppo economico, mette a disposizione delle piccole e medie imprese marchigiane. Sono tre bandi per un totale diversi, per un totale di circa 25 milioni di euro, un bando che riguarda progetti di internazionalizzazione, in sostanza vogliamo sostenere le aziende, le imprese che si rivolgono soprattutto a mercati esteri, lo facciamo attraverso il sostegno a un nuovo utilizzo degli strumenti della comunicazione, del marketing in modo particolare, dell'innovazione digitale. Poi un bando dedicato invece alle start-up innovative, quindi ci rivolgiamo a quella parte più creativa che caratterizza anche un po' il nostro ecosistema delle giovani imprese, con un bando che le vuole da un lato sostenere nell'avvio, dall'altro anche consolidare per quelle start-up innovative che già hanno più di un anno di esistenza. E poi infine un bando dedicato proprio alle filiere, alle filiere produttive, perché per noi è fondamentale unire, mettere insieme, fare rete di imprese, una serie appunto di imprese che possano attraverso dei progetti, anche in questo caso, che abbiano comunque una forza innovativa, creare appunto una filiera regionale che pensiamo possa essere risolutiva soprattutto nel cercare di trovare e mettere insieme diverse competenze. Continuiamo questo giro, oggi siamo qui in provincia di Pesaro Urbino, a Lifi, ringraziamo per l'ospitalità e poi proseguiremo nelle altre province prossimamente.